A volte ritornano, o almeno molto probabilmente, e da allora dopo le svariate settimane che hanno visto Eusebio Di Francesco come principale candidato per succedere a Paolo Sosa nella prossima stagione sulla panchina della Fiorentina, ecco che adesso torna in auge un altro nome già accostato in precedenza ai gigliati. Trattasi dell'ormai ex guida dell'Inter Stefano Pioli, mister Parmenze, classe 1965, sollevato dall'incarico nella serata di ieri dalla dirigenza Nerazzurra e che dunque si propone sempre più come futuro tecnico della Fiorentina per la prossima annata. E se già Pioli infatti in precedenza era stato accostato ai gigliati, anche nel periodo in cui sembrava più che ovvio l'arrivo invece di Di Francesco, ecco che ora l'iniziativa del gruppo Suning accende ancora di più il semaforo verde per quanto concerne l'approdo del tecnico a Firenze. Pioli che dunque, dopo le esperienze di Roma sulla panchina della Lazio, squadra con la quale ha raggiunto una finale di Coppa Italia ed ha centrato un terzo posto raggiungendo i preliminari di Champions League e la successiva a Milano sulla panchina dei Nerazzurri, adesso potrebbe davvero essere il prescelto per sostituire Sosa sulla panchina della Fiorentina, trovando un'altra grande piazza dopo gli anni di esperienza maturati tra Roma e Milano. E proprio questo è un fattore di cui tiene conto la dirigenza viola che per inaugurare un nuovo ciclo preferirebbe un allenatore già affermato o comunque che abbia già avuto a che fare con squadre e piazze blasonate e quindi il nome di Pioli in questo senso sembra essere più gettonato di quello di Di Francesco, il quale, seppur competente e capace, non può far vanto di un curriculum del calibro dell'ex Nerazzurro. Pioli che dunque, dopo 182 giorni di panchina interista, torna disponibile ed arruolabile anche però con qualche rammarico e polemica sostenuta da parte del tifo interista, che almeno per gli ultimi tre impegni di campionato avrebbe voluto trattenere il tecnico. Anche perché l'avventura dell'allenatore a Milano non sembra essere stata così negativa e tralasciando i soli due punti raccolti nelle ultime sette giornate, infatti, Pioli ha raccolto in totale 39 punti in 23 partite da novembre, secondo nella classifica interista Posto e Murigno, inanellando al suo arrivo in Nerazzurro tra l'altro ben sette vittorie consecutive. Purtroppo, però, si sa, il calcio è strano, ed allora ecco la repentina decisione della cordata cinese di non continuare il rapporto di collaborazione con il tecnico, con la Fiorentina, che nel frattempo si affaccia allora subito alla finestra, pronta ad offrire un contratto triennale all'allenatore, che entro due o tre settimane sarà chiamato ad accettare o meno l'offerta, che dovrebbe oscillare tra l'1,2 e gli 1,5 milioni a stagione. Insomma, sembra ormai certo dunque che a fine stagione si tireranno le somme e che ci sarà la famosa rivoluzione tanto celebrata a partire proprio dalla panchina, quella da cui si svilupperanno tutte le future trame gigliate. Tre giornate alla fine del campionato e non si può non parlare di mercato, perché il campionato è ormai vuoto di significato per la Fiorentina e perché l'estate sarà calda per la società viola. Il fronte più importante da seguire è quello legato a Federico Bernardeschi, il prolungamento del numero 10 è uno dei punti cruciali da cui ripartire per il prossimo campionato e la società viola vorrebbe annunciare il rinnovo fino al 2021, entro la fine di questo mese. Sulla scelta di Bernardeschi così avrà un peso l'offerta del club viola, ma anche le ambizioni della Fiorentina. Dunque, tanto della decisione di Berna dipenderà dal nuovo allenatore e da come verrà rinforzata la squadra. Quest'ultimo in particolar modo pare il nodo più importante da sciogliere perché, contrariamente a quanto letto qualche giorno fa, la proposta economica della Fiorentina sarebbe stata apprezzata dal giocatore e dal suo entourage, ma al momento ci sarebbero troppe incognite a livello tecnico. Bozzo, procuratore del giocatore, non farà sgarbi alla Fiorentina, dunque il futuro di Bernardeschi dipenderà solo dalla scelta che il numero 10 viola vorrà prendere. Altro tema forte dell'estate gigliata sarà invece la situazione di Nikola Kalinic. Il centro avanti croato è infatti oggetto del desiderio di molti club europei e la Fiorentina, per un'offerta congrua, potrebbe decidere di monetizzare. Alla finestra, negli ultimi tempi, si sarebbe affacciato il Milan a caccia di un sostituto di Carlos Bacca. I rossoneri vorrebbero Alvaro Morata o Aboma Young, ma per arrivare a questi campioni la strada è in salita e il prezzo è di circa 70 milioni di euro. Il piano B, dunque, potrebbe essere proprio Kalinic. Il club rosso-nero non vorrebbe spingersi però fino ai 50 milioni di euro, come quest'inverno invece sembravano voler fare i cinesi del Tianjin Quanjian. Allo stesso tempo pare però che la Fiorentina potrebbe accontentarsi, per così dire, di 30 milioni di euro e di una plusvalenza di circa 25 milioni. Grazie.